Allora signori un attimo di attenzione perché il momento è importante, è un artista che ha lasciato tutto per venire qui, per venire al patrimonio, perché lui in effetti aveva un concerto in atto, ha lasciato tutti gli spettatori lì in teatro che ha sfruttato il momento che ci rimedono a proposito. Allora signori direttamente dal teatro al Madison Square Garden di New York a capolare le personaggine con tutti i caffè, signori accogliamo con un forte applauso questo artista, artistolo, artistissimo, signori per voi, per noi, Luigi Carvasso! Grazie, grazie, ti amo! Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, passione, passione. Fino passione e poi facciamo pari papà. Perché scusatemi che un po' la voce non va. E' mezzo e femmino, vittorio, vittorio. E' mezzo e femmino, vittorio, vittorio. Grazie papà, vittorio. Allora questa canzone la voglio dare reale. Scusate che ne vongo perché io non sono italiano. Anzio Piaggio e Anzio Totò. Per tutti i fratelli, dai! Grazie! Viva il mio fratello, la prima di noi. Viva il mio fratello, vittorio, vittorio. Io la prima. Io la prima. A don't ci giugno A giugno A don't ci giugno A 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 giugno Mi amavo bene, mi attacca sul bene, non trovo anche a te. Sì, bella è sulla me, marinto con l'entia, non ti eri l'entia. Sì, bella è sulla me, marinto con l'entia, non ti eri l'entia. Sì, bella è sulla me, marinto con l'entia, non ti eri l'entia. Sì, bella è sulla me, marinto con l'entia, non ti eri l'entia. Allora, l'ultima canzone, mi saluto con questa canzone, cuore papà, è dedicata, specialmente, sentite bene queste, bene le parole, la piacciono, sentite bene. Nino Tangelo, questa canzone è una grande canzone, sentite bene le parole però, eh. Nino Tangelo, sentite bene che è bellissimo, sentite bene. Scusatemi, ragazzi, che non c'era. Prendiamo il po' di fare, non ti eri l'entia. Prendiamo il po', non ti eri l'entia. Però la voce non è un po', non ti eri l'entia. Non ti eri l'entia. Non ti eri l'entia. Non ti eri l'entia. Aspettate un attimo che questo è un casino per trovare in senso. Non ce ne faccio più ragazzi, eh. Ma non ci erano. Si, guardate, mi chiamo. Aspetta un attimo, miti in napoletana di Nino Tangelo, è impossibile, è la gestione. voglio fare un applauso è dedicata a un signore si ricordo che non c'è più un applauso per tutti voi a parte di piace che lassù ci sta vedendo e ci sentiamo e per tutti i papà questa cosa in particolare per fare bene figlio come bello ora è papà tua di che facessi quando fa famiglia mi scrive senta quando torna a razza e io e io ti rispondo con una pressa quando a pochino ti scrivo in te lettera tu sai che sto finando a fatica e non lo sai che sto in te chega e io ti rispondo e io ti risponi e io ti rispondo e io ti risponi tutto il mio Examples di che approfittă e io tu mi rispondo e io tu mi rispondo e io tu mi rispondo perché non c'è più ci si rispondo E parli su E parli su E parli su